entriamo nel merito nel vivo della dinner gala di questa sera new foundation ma marta un artista davvero unica valeria corvino che ho il piacere di incontrare questa sera per la prima volta ma sulla quale mi sono ampiamente documentata grazie intanto per essere con noi grazie a voi allora valeria intanto tu hai raggiunto un alfabeto stilistico che è in perfetta armonia come hai fatto sicuramente io un'eredità antica che porto avanti cercando di modernizzare cercando di essere come dire anche un artista un po pop un po barocca dicendo un po il rock e il barocco è una cosa che mi piace molto che porto avanti da più di 30 anni il mio vero lavoro è questo valeria la tua esperienza naturalmente fonde tutta una serie di passioni cioè quindi abbiamo l'arte in generale perché so che tu sei anche un appassionata di fotografia tra le altre cose ecco come sei riuscita a mettere tutto insieme beh in molti anni di lavoro ed edizione perché io sono follemente innamorata di questo lavoro e quindi a un certo punto ho trovato come dire l'insieme e sono andata avanti su questo percorso ovviamente so che tu non sei nuova ad iniziative di questo genere dove i popoli in nome dell'arte dialogano allora commentiamo questa serata ma soprattutto commentiamo tutto quello che tu a livello personale hai percorso come artista a livello di dialogo tra culture diverse nel nome dell'arte beh sicuramente l'arte ma la bellezza d'altra parte non è una cosa che dico io salverà il mondo e chissà che tante piccole cose fatte da tante donne poi tra l'altro non siano tante gocce e forno in un oceano questo ci piace moltissimo poi l'onda ricorda un po' diciamo le sole meravigliose artistiche che questa sera molte modelle indosseranno qual è stato il motivo ispiratore di questi tessuti di questi modelli ma sicuramente io sono stata rapita da alessia montani con ma mart che mi ha spinto ma anche mia ha inciso profondamente su di me nel produrmi e nel produrre oggetti anche stoffe tessuti e tante cose e per cui questo modo di stuzzicarmi ha fatto sì che creassi delle cose particolari adatte proprio per questa serata e a proposito di sera presa di cui però qualcuno ha già dato qualche dettaglio non dico di troppo ma invece per far venire l'appetito ai nostri video ascoltatori una performance su palco meravigliosa valeria io ti lascio naturalmente alle tue modelle la tua performance e intanto noi continuiamo a vedere e a curiosare chi partecipa a questo dinner gala